Viaggiare è il modo migliore per conoscere il mondo, ma il mondo è cambiato ultimamente, l'avete visto anche voi. Il mio consiglio è quello di informarvi sempre sul paese che volete visitare andando su viaggiare sicuri.it dell'unità di crisi della Farnesina, così scoprirete se ci sono delle situazioni a rischio o dei pericoli e prima di partire lasciate i vostri dati su dove siamo nel mondo.it, così in caso d'emergenza sapranno dove siete. Buon viaggio! Grazie!